Come posso smettere di fumare? Questa è la domanda di oggi e qui è Luca Luna che ti parla dall'altra parte del video Anni fa fumavo tre pacchette di sigarette, tre pacchette, tre pacchette di sigarette al giorno Incredibile, incredibile se guardo dietro Il tettuccio della macchina, quando ancora avevo una macchina, era giallo Per tutte le sigarette che fumavo Incurante da ragazzino, della sofferenza della mamma che si sorbiva a sto fumo Perché decidevo di fumare anche in casa Pazzesco i fumatori, incredibili, quindi è bella sta domanda Ti svelo un segreto, quando smetterai di fumare e inizierai a respirare La tua vita migliorerà sotto mille punti di vista differenti Ho creato un percorso che si chiama Ti Spengo, è gratuito Dove ti mostro diverse tecniche che non riusciamo a riassumere in un video Dove trovi diversi cammini per smettere di fumare Il primo passo è decidere Decidere vuol dire tagliare Devi decidere, devi essere veramente convinto Comunque guarda qua da qualche parte, ci sarà un link Metteremo un link su come smettere di fumare È gratuito il percorso, accedi, fallo, è bellissimo È una bellissima decisione che tu puoi prendere per la tua vita C'è un altro libro meraviglioso che è il libro di Alan Carr È facile smettere di fumare se sai come farlo Leggilo qualora tu non l'avessi ancora letto È un libro che ha aiutato, credo, milioni di persone a uscire da questa dipendenza C'è un'altra considerazione molto bella Che se sfumi è perché sei legato alla dipendenza Sei legato alla dipendenza in qualche modo Quindi la dipendenza non solo dalle sigarette Ma la dipendenza in generale Quindi la dipendenza emotiva Ti tiene legato E quindi è qualcosa su cui tu dovresti lavorare È un segnale Sei dipendente Dipendi, dipendi da qualcosa E a tal proposito c'è una dieta straordinaria Che si fa con il mapaccio Che devi seguire assolutamente con uno sciamano Che è meravigliosa È una dieta profonda di depurazione profonda A livello mentale, emozionale, fisico E ti aiuta in maniera incredibile A liberarti dalle dipendenze Se decidi di fare questo tipo di dieta Fallo con grande intenzione E dati il tempo necessario Per poter affrontare questo tipo di dieta È una dieta che serviamo anche durante le cerimonie di The Answer Le cerimonie della risposta Dove serviamo questo tipo di pianta straordinaria Che aiuta tantissimo le persone a ripulirsi Quindi questi sono un po' i passi Ok? Delle indicazioni Non è la soluzione definitiva Perché occorre un pochino più di tempo In un video così è complesso Però ci sono dei video che ho messo a disposizione Delle persone che puoi seguire La dieta è un'altra soluzione E il libro di Alan Carr è sicuramente Un'altra grande risorsa Quindi hai questi tre passi Incomincia, inizia a fare qualcosa Grazie a tutti